A fronte di un boom di guarigioni 928, per Covid purtroppo si continua a morire in Molise. L'ultima in ordine di tempo, secondo il bollettino ufficiale dell'ASREM, è una donna di 77 anni di venafro. 2.925 i tamponi rifertati tra antigenici e molecolari e 372 sono i nuovi casi. Sempre Campobasso in cima alla lista con 75 positivi, segue Termoli con 57, Isernia 26, 19 Campomarino, 11 Riccia, 10 Larino. Gli altri centri regionali restano al di sotto delle due cifre. Un nuovo ricovero al Cardarelli, si tratta di una persona di Cerro al Volturno e una persona è stata trasferita da malattie infettive a terapia intensiva.